E salve a tutti ragazzi io sono Zoom Master e che bello ho registrato un Ascoltate la musica, ho registrato un episodio e mezzo con il microfono illuminate mutato Ma io mi domando, ma addio, ma quanto accane, vabbè, oltre a questo Income niente, ho parlato a vuoto per una mezz'oretta, però che ci vogliamo fare? Quindi noi vediamo di rimediare con questo episodio Andando sul, ehm, andando sul, ehm, tanto questo che ne dovremmo prendere, vabbè Andando sul Monte Cagnillo mi sembri, mi sembri, mi sembra Quindi andiamo sul Monte Cagnillo, vediamo, piuttosto da dove cazzo ci si arriva sul Monte Cagnillo Perché mica me lo ricordo Ehm, eh, sì, ok, ora mi ricordo Ah, ragazzi, finalmente a fine mese mi compro un microfono Così almeno evito questi fail E non uso più il microfono delle cuffie, ma uso il microfono Fisso, mi compro un bel microfono Quindi, olè, quindi finalmente Intanto qui vedo gente che si uccide, si scannano Non capisco il perché si stiano scannando, visto che sono tanti amici Ciao Mazz Vedo che la gente, vedo che hanno tutti dei pochi yen Mortacci vostra Sì, muori Attacco rapido, attacco rapido, addio, sì Attacco rapido, attacco rapido, ok Ehm Anche qui andiamo dall'acciaio Attacco d'ala Ok, pochi yen Attacco Attacco rapido, è stato un piacere, addio E l'acciaio, l'acciaio Attacco d'ala, addio Ah E Ah Salviamo, non c'è da mai mi casci in gioco, ok Ops Ehm Ah Ivan Ok Ehm Che dici se invece sarò gli avretti culo? Ehm Non credo tu sia molto d'accordo su questo fatto Ehm Sono d'accordo con te signorino Ehm Fangosberla No, l'acqua Grazie per essere defunto Zubat Fangosberla Colpo di fango Pistola acqua Addio RIP Perfetto Ombra Oscura Ombra 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 RIP Alla Roselia Ma che assorbimento Madonna L'ho shottato malissimo Madonna Che cazzo è Roselia, un monstro Molto Non so Ombra Ehm Beh Ehm Ehm Vod Vod Sotto Ombra Ma non Il mio L'acqua Si Ancora Ok Ho Mettorito Il cinema La macchina Ehm Ma Ombra Zaino Si trova presso le cascate meteorite Ok sinceramente possiamo anche dacci La nostra missione è finita qui Vediamo che pokemon incontreremo Vediamo che pokemon incontriamo C'è pokemon nuovi No sempre soliti Possiamo dacci Ok Ok Allora io piuttosto sono un po' amareggiato Fuga Masop Non mi interessi Ok non mi interessi neanche tu No Non ci sono poco meno interessanti In verità potevo anche andare dall'altro lato Però io sono furbo E quindi E vabbè Se faremo una ragione Odish No Anche se sono un po' confuso a merda Pro dettagli Ora però lo cambio Perché se no facciamo una brutta fine Eh Affanculo Alla zaino Vediamo se abbiamo una svella No No Bacca 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 Ok Ok Andiamo a prendere quel Ehm Quell'uovo Si voglio l'uovo Ok Ehm Allora nel prossimo episodio ragazzi noi andremo a fare Ehm Che questo è? Ah è tipo L'erba shop La Erba Erba shop lì Come cazzo chiama? Ehm Ehm Ok Niente Vabbè lasciamo stare Vabbè Prima che entro In discorsi Un po' Ok ragazzi noi ci vediamo un po' sui video Perché non so da quanto sto registrando Quindi non vorrei fare un po' di incredibile Ciò ho fatto anche l'altra volta Quindi aspettate fin mese Così mi arriva il microfono E forse mi sentite tante meglio Perché non lo so Comunque noi ci vediamo con il prossimo video Ragazzi Bella